Con la creazione di una piattaforma e-commerce pensiamo di chiudere un po' il cerchio di quello che è l'incontro tra domanda e offerta che la nuova Fiera del Levante si propone di fare. Infatti diamo l'opportunità di essere presenti tutto l'anno sul mercato alle tante aziende che espongono qui dentro e con il nostro nome, la nostra tradizione e anche la nostra credibilità diamo anche quel valore aggiunto che serve per un incontro tra domanda e offerta che non si fa come succede qui dentro guardandosi negli occhi e stringendosi la mano ma si fa su una piattaforma e quindi l'idea che noi siamo gli intermediari e i garanti di questo scambio sicuramente nel consumatore finale crea quel grado di fiducia che è necessario avere. Qua lo facciamo nei viali, sulla piattaforma online lo facciamo con il nostro logo, il nostro simbolo e la nostra credibilità. Questa domanda e offerta che si incontrano anche digitalmente naturalmente vanno ad aiutare gli scambi commerciali che avvengono per le tante aziende sia italiane che straniere che espongono qui dentro e quindi creiamo business ed è quello che una fiera si propone di fare. Andiamo? Allora, il nuovo sito della Fiera del Levante ha rappresentato una sfida non semplice perché non è semplicemente un marketplace ma è un luogo che deve estendere a tutti gli effetti online l'esperienza, la peculiarità e soprattutto l'autenticità di questo evento. L'abbiamo immaginato come una metafiera, quindi un luogo nel quale incontrare o ritrovare espositori di prodotti e servizi che si possono trovare una volta all'anno in fiera e l'abbiamo immaginato non solo come uno strumento di revenue utile a creare costantemente durante tutto l'anno delle transazioni e delle vendite online ma anche uno strumento per informarsi, per incontrarsi, raccogliere informazioni sui desideri dell'utenza e scoprire da un punto di vista del consumatore quello che poi si potrà trovare tra i padiglioni. L'abbiamo quindi immaginato come uno strumento che da un lato potesse potenziare il desiderio e preparare meglio i clienti ad essere qui e a fare esperienze più informate tra i padiglioni e infine è uno strumento utile a chi espone per poter poi tutto l'anno indicizzare e soprattutto esporre prodotti e servizi per chi qui da Bari o ovunque in Italia e nel mondo vorrà acquistare quello che viene poi selezionato e scelto da ormai decenni creando un'esperienza che ritengo sia ancora utile, che crea valore e che abbia il senso di esistere. Grazie 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 Grazie